Rieccoci a Primus Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Come avete visto questa sera la puntata è dedicata a un collega, un giornalista coraggioso che di sua spontanea volontà, per curiosità, per bravura, per... che ne so, ha rischiato la vita, è andato nei paesi, aveva già iniziato in Jugoslavia tanti anni fa, però recentemente è andato per molte volte in Siria, in Iraq, passando poi per la Turchia, per vedere da dove nasce questo famoso ISIS e in questa puntata lui tra chiacchiere e filmati ce lo sta raccontando. Adesso andiamo a vedere un filmato davvero molto curioso, vi ricordate quella ragazza di Treviso, poi ve lo dice lei il nome, che era, si era rullata con l'ISIS, tutta l'Italia preoccupata, più che preoccupata erano tutti arrabbiati di questo e andiamo a trovarla e cosa ha fatto Giavato? Bene, lui si trova in Siria e chiede di una ragazza di Cinisello Balsamo e questa ragazza trevisiana in diretto veneto gli risponde, ma non era la ragazza di Cinisello Balsamo, era la ragazza che si era arrollata con l'ISIS, l'italiana che si era arrollata con questi delinquenti, andiamo a vedere il servizio. Io sono del Pernese, provincia di Treviso, sono anche dei genitori, ma non hanno voluto seguiti, seguiti, seguiti. Quando sono portata in Tunisia nelle vacanze ho visto tante donne portare il vero e non è reale e hanno chiesto a mio padre, mi hanno detto no, no, non è sempre lo nostro... e non è così, non devi vestirti così di tutto, ma io ho lasciato padre, mio padre, e sono andata a cercare il mio internet e ho trovato tante cose che dicono e quel conaglio racconto. Portavo in Italia? Era quando passavo era un po'... e le persone mi guardavo così. io mi sono sposata in Turchia con un ragazza, un tunisino, un tunisino che vive in Tunisia ma ha partito a lavorare in Turchia, era religioso ma non darsi, c'era un po' di differenza. Mi sono sposata in Turchia e ho partito di tornare qui da Turchia e dopo sono entrata in Siria. Nel 2015 sono entrata in Siria. un po' di più uomini. Adesso sono morto. Quando ho visto i video e le foto erano delle donne a vestirsi con un vestito, un vestito integrale e tutto e praticano la religione. ci hanno detto che entrate e vedi che è buona e tutto quello che mi dicono nei video è vero. prima di entrare c'è un po' di gente all'azienda. All'azienda ci sono tanti vicini di casa e ci sono delle persone che ti fanno entrare. per qualche giorno, dopo qualche ora. Dopo ti prendono e ti portano al compito. Ad Azienda, dopo l'azienda ci siamo tratti a Rai, a Rai ci hanno preso Gerardus, a Gerardus ci sono presa Rappo. All'inizio ho detto che non uscivo di casa e tutto e erano male. Mentre ogni quattro messe. Dopo quando ho cominciato a uscire, a praticare gente e tutto, abbiamo cominciato a capire, piano piano. Uccidono molta gente. La cosa che c'è più lì è che uccidono tanta gente. Una volta sono andata in Rai e passando ho visto un uomo appeso. solo questo. Era già molto ucciso, ma... No no, lì quando uccidono una persona la pentono per tre giorni. Ho pensato di partire e veramente sono così. Ma dopo no. Quando vieni con loro e sai tutto. Tutti sono tanti. Abbiamo sentito che c'erano persone lì, tutti volevano fare delle tanti. Ma spero che si fanno tanti. La pentono di questa cosa. Quando ero lì avevo risposto a me. Avevo sempre paura. Non so perché. Avevo sempre paura a me. Ma il mio marito, le mie figlie. A parte i comportamenti tutti. Abbiamo saputo come vivono i comportamenti. Siamo abituati. Ma nel discorso che c'è gente, questo non ho piaciuto. E a me non mi piace questa cosa. Non mi è piaciuta questa cosa. Avevo sempre paura di mio marito che viene. Non tanto tempo. Prima di uscire. E anche prima che riesco io da Deraj. Ci divano la gente così. Così. Prendevano la gente per gioia e ci vanno. Prendevano la gente per gioia e ci vanno. Prendevano la gente per gioia e ci vanno. Buona tante, buona tante, buona tante. Abbiamo detto che il diga del set del baro che costa esplodere tutto. Aroncinta di lui scappiamo. Sulla notte. Due di notte ci vanno. Ma io dopo uscire da qui. Perché le gente di là ci abbiamo saputo che noi siamo qui. Dobbiamo, ci c'erano, ci facciamo, ci facciamo. Siamo usciti. Mi dovremmo andare in giuntura, per passare a riuscire, ma c'è anche così, c'è un'altra parte che sono uscita da là, sono fatta ti amare. Ci sono tante, oltretanto gente che vuole uscire da mare. Ti chiedono tante soldi per uscire, e se esci, ti prendono me, se resti lì, ti uccidono me. Spero che tutto questo che sto vivendo passeremo, e ritornerò alla mia vita. La prima cosa è di uscire da qui, ma non sappiamo quanto succederà. Allora, questa intervista ovviamente non si è sentita molto bene perché aveva il velo, lo chiamo io, che copriva la bocca, quindi sicuramente con attenzione si è scontato. Questa ragazza si chiama Sonia, è una ragazza che è nata in Veneto, a Treviso, si innamora di un tunesino, il tunesino è uno dei capi, pensate, dell'Isis. Se la porta via, praticamente in parole povere, rimane incinta di due figli, avete visto uno l'aveva in braccio, e adesso si è quasi pentita e vorrebbe ritornare in Italia. Nell'intervista il buon Ivan era assieme anche a una ragazza perché la donna dell'Isis non può parlare con il giornalista, ma deve parlare con la donna. E quindi Ivan mandava i messaggi via WhatsApp alla donna e la donna faceva le domande a questa Sonia, che mi sembra così, ha raccontato che ha tante storie che non sono proprio reali o sbaglio. Allora, va detto che la donna faceva le domande è Stefania Battistini che è una collega del Tg1, con la quale facciamo spesso questi viaggi perché aveva questa passione. Aggiungo, ricordo che questa intervista in onda integrale così non l'ha vista nessuno, l'abbiamo vista qui a TV7 Triveneta, a Primo Sinterpare, ha mandato qualche spezzone alla RAI perché ha cercato di non pubblicizzare l'evento e basta, l'abbiamo mandato noi in maniera integrale. Sì, è la prima volta e sono anche contento perché secondo me queste cose vanno viste, vanno viste, vanno anche sentite, chiaramente anche a noi dispiace l'audio, però è una situazione molto complicata, anche perché se si può scherzare un attimo direttore, noi in realtà stavamo cercando una donna di Cinisello Balsamo. Mi scusi, se chiedo a Claudio Regia la mente magari alle spalle, così mentre parliamo la gente capisce di chi stiamo parlando, prego. Sì, noi stavamo cercando perché Stefania si occupa da molto tempo, sta cercando da molto tempo, Stefania Battistini lavora al Tg1, quindi la sede a Milano, quindi è chiaro che lei è più conosciuta sulle cose milanesi, no? E quindi cercava questa donna, che ha una storia simile, di Cinisello Balsamo. E noi insomma, sta qua, l'abbiamo cercata un sacco. E quando siamo arrivati in questo posto, in questo campo dove sono ospitate, barra detenute, le mogli dei combattenti da Esce, più importanti, però non le mogli dei combattenti, insomma quelli, ma quelli dirigenti, diciamo. Sì, perché il compagno di questa era uno che contava, molto importante, molto importante, molto più grande di lei, eccetera, eccetera, uno che copriva anche un ruolo decisivo perché si occupava di tributi e finanze per l'Isis a RAC. Eccola qui, bravo Claudio, che ce l'ha messa in... Lei, indubbiamente, bisogna prendere un po' con le pinze, adesso a me non vorrei dire una cosa che magari viene, diciamo, travisata, però io prenderei con le pinze tutto quello che ha detto. Sono dei passaggi che sono assolutamente, evidentemente verificabili perché lei arriva... Tipo, per esempio, il fatto che lei è passata dalla Turchia, da Gaziantep, che per assurdo è la città da cui sono partito la prima volta per Covane. Ma Gaziantep è un luogo dove, quando c'è stato l'attentato al Bataclan, c'erano le macchine con le bandiere dell'Isis che festeggiavano suonando il clacson. E questo anche, per esempio, è un aspetto che non viene mai sottolineato, bisogna stare molto attenti. No, si dice sempre, quando si parla del sud della Turchia, ci sono, insomma, tante situazioni che non sono chiare, ecco, che non sono esattamente positive. Basta vedere, insomma, come vivono i civili kurdi, che, insomma, bisogna dire che pagano un prezzo molto, molto alto. Ma questo, secondo lei, è andata per amore, si è arrullata con l'Isis per amore, perché nell'ultima parte dell'intervista, mi sembrava di aver intuito, di aver visto, perché è la prima volta che la vedo anch'io come la state vedendo voi, avesse un po' di lacrime agli occhi, cioè mi sembrava fosse commossa. Non so se ha fatto finta, oppure quando dice, voglio ritornare in Italia, mi sembrava commossa, almeno l'impressione che ho avuto. Quindi, presumo, l'abbia fatto per amore, sei innamorata di questo tunisino. Beh, la sua storia, secondo me, è la sua storia... E vive, e ricordiamo anche dove vive quella... Sì, adesso lei è detenuta, detenuta, che poi è una parola impropria, perché in realtà non sono in prigione, e il fatto che queste donne sono in questo campo profughi, che sono a 35-40 km di Aracca, anche perché comunque non è che sono proprio ben viste dal resto della popolazione, perché tu sei la moglie di uno che ha fatto uccidere magari mio zio, mio padre, mio nonno, mio cugino. Quindi, insomma, c'è anche questo problema, c'è anche un problema di salvaguardia della persona di lei. Detto questo, è ovvio che lei vorrebbe tornare in Italia, però bisogna... Insomma, io di questo non voglio entrarci, nel senso che non sono certo io che deve giudicare o decidere. Però, va detto che sono tantissimi i combattenti Daesh, che quando arrivavano dall'Europa, convinti che lì avrebbero vissuto una vita alla grande, con soldi, donne, case, eccetera, però poi quando hanno capito quello che avrebbero dovuto fare, cioè uccidere altre persone, e molti non si erano sentiti, infatti molti sono stati uccisi proprio da altri milizieri dell'ISIS. Però, lei si è convinta negli anni, cioè è molto giovane, ha fatto un errore gravissimo, ma io spero che, io spero sempre che tutto si possa recuperare. Però evidentemente, mi ha fatto un'analisi... Però si è un po' rovinata, si è un po' rovinata. Sì, ha compromesso la vita sua e io dico che mi fa paura pensare che, insomma, quei bambini crescono in un ambiente... Ma non le avete chiesto come mai porta... No, lei l'ha detto, lei l'ha proprio detto che lei ha iniziato a portarlo qua, nella provincia di Treviso, dopo un viaggio che aveva fatto, il papà l'aveva mandata appunto in Tunisia da degli zii e uno di questi zii era particolarmente fondamentalista e l'ha indotta a seguire quei precetti del Corano specifici, quindi quelli più legati, diciamo, a loro, legati a quel tipo di propaganda. Ha detto qualcosa, chiudendo l'intervista, poi l'intervista non ha detto qualcosa, Iva mi porti in Italia, non l'ha detto così, confidenzialmente. No, anche perché no, assolutamente non c'è stata nessun tipo di relazione con gli uomini, assolutamente no, e quindi io in realtà non ci ho praticamente parlato. Ecco, in questo campo, definiamolo a 30-40 chilometri da Aracca, in quanti vivevano tutti dell'Isis? No, 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 è diviso a metà, c'è una parte appunto dedicata a queste donne che sono le mogli dell'Isis, le chiamano così, ma il resto sono rifugiati, sono sfollati e sono veramente tantissimi. Sono tantissimi gli sfollati in Siria e tantissimi gli sfollati in Iraq. Certo, se uno deve scegliere meglio essere sfollato in Iraq, perché perlomeno i campi profughi, le strutture, sono sicuramente i migliori, mentre invece in Siria la situazione è assolutamente ancora oggi drammatica. E poi dobbiamo considerare che in Siria, tipo, c'è un clima che non è che aiuta, perché quando vivi in una tenda che sono 50 gradi d'estate o meno 10 d'inverno, c'è anche questo aspetto qua. In un campo profughi uno quanto può resistere a vivere bene? Non tanto. Questo è Cobane, questa è una giornata tipo Cobane, cioè con un bombardamento, un'esplosione, questo per esempio è un mezzo, un camion bomba che è entrato in città e ha fatto 25 morti e quindi distrugge tutto quello che c'è attorno. Queste persone ci scortano armate, perché bisogna anche stare attenti, insomma, come ci siamo, perché ci sono tanti i cecchini. I cecchini sono una questione irrisolta anche a Mosul, infatti dopo ci andremo a Mosul e a Mosul i cecchini ci sono ancora. E' chiaro che poi le notizie qua, a meno appeal diciamo questa storia oggi, però l'Isis non l'abbiamo sconfitto, non è risolto, non è finito tutto, non ha vinto il bene, insomma, ecco, volevo dire questo, cioè c'è tanto da fare. Questa è un'immagine sconnessa, però qua noi stiamo correndo perché ci stanno sparando e quindi si sente sotto l'audio che... Sentiamo l'audio Claudio mentre sparano, sentiamolo un po'. Sì, si vede dall'inizio, si sente appunto che noi facciamo quel passaggio veloce. Allora facciamo così, stiamo col passaggio veloce dove... Solo per far capire appunto anche le condizioni in cui si lavorano. Il nostro Ivan schivava le pallotte. Beh no dai. Beh se hanno vicine sicuramente... No, sì, io cerco sempre di... Di sdramatizzare, ma qui, eccolo, sentiamo. E poi una volta che è attraversato, finisce l'allarme. Sì, ma non è proprio da essere contenti Ivan, cioè io presumo, insomma, se uno corre così e qualche fischietto delle pallotte lo senti, insomma... Sì, certo, però ti insegneranno... Guardi, c'è una cosa che secondo me va detta perché... Ma proprio perché ho paura che si faccia troppo attenzione a questa cosa che in qualche modo io possa mettere a rischio. Io posso dire questo, cioè ho visto più guerra dove non c'è guerra che dove ce n'è. Io ho visto morire più persone dal vivo in Brasile che in Siria. Ho rischiato sicuramente di più di farmi male, insomma, in Turchia che in Iraq. Però con un piccolo particolare che è andato in Brasile e in Turchia, non nello stesso periodo che in Siria, lanciavano le bombe gli americani. Sì, questo... Perché avrebbe rischiato parecchio anche lì, presumo, eh. No, no, che voglio dire che la guerra... No, lo voglio dire perché la guerra ha delle regole precise. La regola precise è che sono certi orari del giorno, accade poco, che sono che impari a muoverti, impari a distinguere, proprio anche con l'udito, chi spara, da dove spara, che cosa spara, che sembrano sciocchezze, ma sono quelle che ti salvano. Invece in un contesto dove la guerra non c'è, non è dichiarata, tu cammini tranquillo per una favella, non ti aspetti che da un camion uno spari alle persone che passano in Turchia, non ti aspetti che durante un pranzo, non ti aspetti che mentre sei al mercato di Erbachir... Quando arrivi... E' quel livello d'attenzione che ti mette in pericolo. E' anche vero il ragionamento che fa lei, Ivan, se lei si trova al Bataclan, o si trova in centro a Barcellona, o si trova a Londra, arriva il camion... Uno non se l'aspetta. Non se l'aspetta per forza di cose. E quindi la reazione è difficile. E' un po' anche più preoccupante. Senta, adesso lasciamo un attimino le Libie, andiamo in Iraq. Dalla sigla di Iraq. Andiamo a vedere questo filmato che ci racconta cosa... Ma qua è interessante siccome vedere la Mosul, perché di Mosul si è parlato tanto, questa guerra per liberare è durata 7-8 mesi, non si capiva mai se era finalmente liberata o meno, e diavolo, la zona antica della città, bellissimo luogo, in macerie, è veramente ridotto a zero. Andiamo a vedere. Stiamo entrando a Mosul, c'è il 14 giugno 2018, la guerra è finita, o forse no. Stiamo entrando a Mosul, c'è il 14 giugno 2018, la guerra è finita, o forse no. Stiamo entrando a Mosul, c'è il 14 giugno 2018, la guerra è finita, il 14 giugno 2018, la guerra è finita. Allora rientriamo Lasciamo pure le immagini Claudio Che le commentiamo allo studio perché parlano in inglese Quindi le commentiamo in studio Mi dicevi che il primo palazzo che abbiamo visto Era un palazzo dove venivano gettati gli omosessuali Giovani omosessuali giusto? Praticamente accusati di essere omosessuali E venivano lanciati Da quel palazzo il primo che abbiamo visto E probabilmente molti l'avano conosciuto Perché insomma quell'immagine di quel posto Quell'azione girava Perché poi loro fanno questo fatto di condividere sui social Insomma fanno una campagna E quindi i giornali riprendevano queste vicende Però questo è un posto dove venivano consumate le torture Ed è un posto che è sotto una chiesa Le chiese cattoliche venivano molto spesso Lo vediamo in queste immagini Utilizzate come luoghi di tortura Luoghi di segregazione Luoghi dove offendere diciamo La religione cristiana Era anche quello una forma di comunicazione Cioè era una forma di affermazione di forza E le torture più atroci Ivan quali erano? Le torture sono veramente atroci Perché poi io dico sempre che il male non è molto originale Nel senso che si ripete Il fatto di rinchiudere la gente degli stadi L'abbiamo visto anche in Latino America Lo facevano quindi non si sono inventati nulla Il fatto di muoversi nei tunnel Lo fanno i narcos in Messico E lo fanno anche loro Il fatto di esporre i morti Lo fanno appunto le bande di narcotrafficanti in Latino America E lo fa anche l'ISIS Quindi non c'è niente di originale E' terribile però Perché la tortura è qualcosa di assolutamente scioccante Anche se si vede soltanto un luogo dove è stato consumato E lì si respirava sta cosa che le persone venivano appese Venivano torturate con i cavi elettrici Ma ha fatto impressione questa cosa degli strumenti di metallo Quelli sono tutti buchi di mitra Buchi di, sì Qui parliamo sempre di bossoli Non piacciono le armi Però si è diventato abbastanza, insomma, qui lo capisco E parliamo appunto di 50 mm Cioè non è che sono proiettili di piccolo calibro Sono proiettili di grosso calibro Che vengono utilizzati nei centri storici Questo è un centro storico Un centro storico di Musula Un luogo che era meraviglioso Guarda, la seconda volta che la cito la mamma Perché in fondo è sempre importante la mamma Mia madre la tengo sempre informata quando sono in giro E quel giorno là io le ho scritto, le ho mandato delle foto da Musul Anche perché io voglio che lei sappia che sto bene E lei le ho mandato queste fotografie da Musul E lei mi ha detto Se non ti arrabbi io vorrei dire una cosa E ho detto mamma, certo che puoi dirla E lei mi ha detto Dove essere stata bellissima l'antica Musul Cioè vedere appunto i pezzi di pietra e dei palazzi a terra Danno comunque l'idea di una città che era meravigliosa E questa cosa, anche questa cosa è una ferita Non solo per la gente di là ma per tutti E poi dove stiamo camminando? Stiamo camminando in un territorio che è rischioso Anche se naturalmente sappiamo Perché c'è un poliziotto che si sta aiutando a camminare E quindi a seguire un percorso sicuro Ma lui prima parlava di IDPs Le IDPs sono appunto le mine e gli ordigni Che sono o abbandonati o lasciati là E quelli quel giorno specifico hanno prodotto 24 morti a Musul Cioè quel giorno mentre noi si camminavamo a Musul Sono morte 24 persone Perché hanno messo il piede in un posto sbagliato Invece che un altro E quindi sentivi anche il rumore? Quindi avverti questa cosa appunto Della precarietà della vita Che magari detta così sembra una frase un po' ad effetto E quindi ha rischiato qualcosa Cosa è Iva? Lei mi continua a dire di no Insomma qualcosa è rischiato Noi rischiamo tutti i giorni Noi rischiamo per scelta Cioè comunque in ogni caso Ho capito che è rischiato per scelta In effetti Io questa cosa cerco sempre di tenerla un po' Di tenerla lontana Perché non mi piace proprio Passare per quello che fa una cosa Invece no, non c'è quell'elemento Io sono uno che non sono capace Vuole spiegare nel frattempo Perché se lasciamo il sottopancia Claudio Perché si chiama In effetti Lui si chiama Ivan Compasso Vedete che però tra Ivan e Compasso C'è questo Grozzi C'è questo Grozzi Grozzi come si pronuncia Perché non È un nome Jugoslavo Giusto più o meno In realtà la maggior parte delle persone Pensa che sia un vezzo E che sia Diciamo Una parola che Russa Che richiama Ivan il terribile Invece non è così E allora per quale motivo Si è messo Ivan Quel cognome In realtà non me lo sono Perché non è il suo Sentite la storia No, Compasso sì è il mio No, dico quella in mezzo Grozzi non è il mio Anche se l'ho diventato Perché la mia prima esperienza È un luogo di guerra Andai a Giupagna A questa città Avevo 18-19 anni In questa città Dove c'era appunto Un campo profughi enorme Al confine tra Croazia Serbia e Bosnia Non si capiva ancora nulla Perché erano gli anni 90 Era in piena guerra In ex Jugoslavia E c'erano un centinaio Di bambini orfani E siccome succede Che poi l'ho rivista Anche questa cosa In Siria E magari poi la raccontiamo Se vuole Quando i bambini Sono figli di violenze Come nel caso specifico In ex Jugoslavia Si danno dei nomi neutri Che non possono essere Di conducibili a nessuno E quindi io mi sono trovato Davanti a un centinaio di Ivan E questa roba è stata Per me fortissima E quindi uno di questi Ivan Che mi chiedo sempre Che fine abbia fatto Mi chiamò così E due anni dopo Quando veni a lavorare A studiare a Padova A l'Università Lavoravo al Teatro Verdi Aiutavo in palcoscenico E Bosco Il mio caro amico Bosco Che era un esore serbo Mi chiamò Grozni E lui disse Che cavolo vuol dire? E lui mi disse Tutto il bene Tutto il male C'è in quella parola là Cioè aggettivi positivi e negativi E mi piace perché noi viviamo Sta roba di Insomma di Quindi possiamo definirla Tutto il bene Tutto il male Ivan? No 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 Però mi piace Tenere sempre presente Che le cose non sono mai Bianche e nere Ma che c'è sempre Un elemento di Magari si è fatto Un'autobiografia Con quel nome di No 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 Ho scritto un paio di libri Ma quelli sono sempre racconti Di vicende Adesso speriamo anche Ecco i libri che ha scritto Poi andiamo nell'ultimo filmato Che riguarda l'Iraq I libri che ha scritto Cosa dicono? Cosa è soprattutto Uno è proprio il diario di Cobane La mia settimana dentro Cobane Che insomma naturalmente È un libro A cui tengo molto Perché quella settimana È stata una settimana Che mi ha chiaramente segnato Mi sono successi Gli episodi molto forti E lì è successo probabilmente Anche l'episodio più bello Che mi sembra accaduto Quindi questo è il libro Eccolo qua il libro E poi ho fatto diversi documentari Ma il primo fu Ladri di Scott Però non si è messo Lei ha messo una bella ragazza In copertina No no Lei è una combattente Ecco io anche nei video Tendo a non esserci Nel senso che io non sono Il protagonista della storia Io sono il veicolo Che serve per raccontare le storie Poi altrimenti ogni tanto Mi ci metto Perché diversi amici Mi hanno Mi dicono appunto Guarda tu ci riesci nel video E qualcuno che ci sta guardando È interessante il libro Dove lo può trovare? Il libro si trovava anche In librerie Fino a poco tempo fa Che è il libro Ma è due anni e mezzo Però si ordina tranquillamente online Ed è un libro Che c'è chiaramente Sollegato Perché Lo ricordiamo Prima della pubblicità Cobane dentro Lo facciamo vedere Claudio Chi voresse acquistare Questo libro Di Ivan Compasso Cobane dentro O lo trova in Se ce ne sono ancora In qualche libreria Oppure lo può prenotare online Quindi Cos'è di cliccare Per andare a Cobane dentro E si trova Adesso non diciamo dove Perché se no faccio pubblicità A qualcuno Però insomma Le persone lo stanno Dovano andare a cercare Allora andiamo in pubblicità Poi vi faremo vedere Un altro filmato Per quanto riguarda L'Iraq Ma soprattutto Vi racconteremo Una storia davvero Da ascoltare Tra poco Allora andiamo in pubblicità Allora andiamo in pubblicità